buongiorno a tutti e bentrovati proseguiamo il nostro percorso di grammatica parlando della posizione allora partiamo come prima cosa dalla definizione la posizione è un nome che accompagna un altro nome per meglio precisarlo e determinarlo allora vediamo che cosa significa questo enunciato la posizione innanzitutto è un nome quindi un sostantivo e si trova vicino ad un altro nome aggiungendo delle informazioni la posizione ha diverse caratteristiche prendiamole quindi in esame una ad una per capire meglio di che cosa si tratta facciamo un esempio in cui non c'è una posizione se io dico gli assiri sono bellicosi assiri è un nome mentre bellicosi è un attributo quindi quello che in analisi grammaticale chiamiamo aggettivo e che invece in analisi logica è un attributo se però dico gli assiri popolazione bellicosa fondarono la loro economia sulla guerra ecco che il termine popolazione che è affiancato al nome gli assiri è un altro nome che aggiunge un'informazione e in analisi logica viene chiamato appunto apposizione se noi osserviamo bene questo termine notiamo immediatamente una differenza con l'attributo mentre gli attributi devono sempre concordare in genere e in numero con il nome a cui si riferiscono e infatti nel primo esempio dicevo gli assiri sono bellicosi sia assiri che bellicosi sono maschile e plurale nella seconda nel secondo caso nel caso della posizione questo non accade necessariamente perché la posizione ha un suo genere e un suo numero essendo un nome a sé stante e infatti nel secondo esempio dicevo gli assiri popolazione bellicosa eccetera quindi assiri è sempre maschile plurale ma popolazione cioè la sua apposizione è femminile e singolare altra caratteristica della posizione è che essa può essere costituita oltre che da un nome anche da un aggettivo sostantivato che indica un soprannome o la paternità quindi il cosiddetto patronimico che troviamo molto spesso ad esempio nell'epica o anche l'origine qualche esempio anche celebre alessandro il grande fu un abile condottiero il grande è a posizione di alessandro oppure il pelide achille classico esempio tratto dall'epica quindi achille figlio di pele o e quindi pelide è appunto il patronimico che è sempre una forma di apposizione o ancora demostene lattenese in questo caso lattenese indica la provenienza di demostene ed è sempre un tipo di apposizione altra caratteristica della posizione è il fatto che essa può essere riferita a un qualsiasi nome che noi troviamo all'interno della proposizione cioè della frase non per forza al soggetto prendiamo ancora una volta qualche esempio se io dico il dottor bianchi è in vacanza dottor bianchi è il blocco del soggetto e in particolare bianchi è il soggetto e dottore è la sua posizione però potrei anche dire giuseppe è in vacanza con il dottor bianchi allora in questo caso con il dottor bianchi è il complemento di compagnia sempre sempre completato dalla posizione quindi bianchi sarà il complemento di compagnia e dottore dottor la sua posizione la posizione può essere precisata da uno o più attributi che si definiscono attributi della posizione quindi ad esempio in una frase di questo genere stefano il mio caro nipote è partito quindi nipote è la posizione del soggetto che è stefano e mio e caro sono due attributi entrambi riferiti alla posizione la posizione a volta introdotta dalla preposizione da o anche da espressioni del tipo come in qualità di in funzione di quindi non so la nonna da ragazza giocava canasta per esempio questo da ragazza è sempre a posizione oppure enrico come notaio ha molti impegni come notaio a posizione oppure francesca in qualità di medico proibisce il fumo ai suoi pazienti in qualità di medico è a posizione la posizione può sia precedere sia seguire il nome a cui si riferisce in genere precede se è riferita a un nome singolo che indica una professione o anche un titolo nobiliare la parentela un nome geografico vediamo qualche esempio non so se dico il ragionier rossi oppure il marchese zani la zia giovanna il fiume po eccetera in questo caso la posizione va prima segue invece il nome a cui si riferisce se accompagnata da altre determinazioni quindi in una frase ad esempio di questo tipo riccardo un bambino di sei anni mi ha donato una rosa non dico il bambino di sei anni riccardo mi ha donato eccetera ecco un nome può essere accompagnato anche da più a posizioni ad esempio posso dire ha telefonato il professor brunetti un medico esperto estimato da tutti in questo caso abbiamo sia professor sia medico che sono tutte e due a posizioni dello stesso nome ecco come ultima notazione mi soffermo sulla sull'importanza di distinguere fra la posizione e il nome del predicato bisogna stare attenti a non confondere queste due funzioni vediamo anche qua un esempio se io dico l'avvocato de carolis è arrivato in questo caso avvocato è a posizione del nome de carolis viceversa in una frase del tipo de carolis è avvocato allora in questo caso avvocato il nome del predicato perché appunto abbiamo il verbo essere con funzione di copula che messo insieme al nome del predicato forma il cosiddetto predicato nominale bene con questa lezione abbiamo concluso vi invito come sempre a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità arrivederci e alla prossima gloria 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 grazie a tutti grazie a tutti